Come ha fatto il Napoli fino ad oggi? Come ha fatto qualche punto questi giorni, è vero, dobbiamo migliorare questo, ma credo che ancora il campionato è un buon campionato. La Champions con l'Arsenal, Borussia Dortmund, l'Olimpia di Marsiglia, 9 punti, l'opportunità di vincere la nostra partita e andare avanti, credo che è una buona Champions lo stesso, vediamo che succede. Noi dobbiamo fare gol, dobbiamo vincere, ma se l'Olimpia di Marsiglia fa il suo lavoro e noi vinciamo non si sa.